Il caro colazione non toccherebbe i nisseni. A Caltanissetta, secondo l'indagine Ascom Sicilia, gli aumenti sarebbero minimi tra i 10 e i 20 centesimi. Così il rito del caffè di Don Raffaele e di Deandre e i 7000 caffè di Britti sono ancora salvi. Ma anche sulla tazzolella pare che sia arrivata la mannaia dell'inflazione, per cui anche la colazione al bar potrebbe essere un lusso per la maggior parte degli italiani. E se da un lato sarebbe aumentata del 37% in Italia, dove in certi casi un caffè si paga 1,50 euro a tazzina, a Caltanissetta i costi restano tra 1 euro e 1,20 euro. Tuttavia un rincaro del caffè si è registrato con un più 20% già nel 2021. Mascom Sicilia Caltanissetta ha effettuato un'indagine tra i pubblici esercizi circa gli aumenti, valutandoli come minimi soggettivi e compresi tra i 10 centesimi per il caffè e i 10 e 20 centesimi per gli altri prodotti. Portando ad esempio il costo massimo di una tazzina di caffè a 1 euro, piccoli aumenti che dichiarano debbano essere considerati come necessari per la sopravvivenza dell'economia interna alla città. Intanto i gestori da noi intervistati ci raccontano delle difficoltà quotidiane e di un aumento dei costi di elettricità e di materie prime difficile da sostenere in un periodo come quello attuale dove il timore per i clienti è che possano rinunciare anche al bar, timore che preoccupa un settore già approvato dalla crisi. Grazie. Grazie.